Oggi, guardare di fronte a me, ho cambiato itinerario, sono arrivato esattamente in questo momento, le ore 15, al lago di Comabbio. Veramente bello oggi, ci sono 10 gradi, veramente, guardare questa vegetazione in riva al lago. E poi qui vedo le piante secche di ninfea. Non è attualmente la stagione, ma tra poco arriverà la primavera. Oggi è già un giorno di primavera, devo dire. Ci sono 10 gradi e qui sto bene. Sono arrivato in bus, partendo da Sesto Calente. Sono arrivato in bus, ho cambiato poi itinerario, come al solito. Il viandante va dove mi porta il cuore e devo vedere dove mi porta la vista. Il mio occhio fa villa qui, in questo lago placido. Devo dire che questa è una lunghezza di 3,6 km. È molto grande come circonferenza. È poco profondo, il massimo 8 metri. A differenza del lago di Monate, qua vicino, che vado dopo, la prossima fermata del treno, scendo tra Vedona. Vado a vedere il lago di Monate. È profondo nel punto massimo 48 metri. Invece questo lago è bello, è calmo. Poi là di fronte c'è una bellissima passerella di legno, proprio là di fronte, che va in parte sul lago. L'ho fatta camminando. Io e il mio amico, il solito, quello dirò. Devo dire che adesso sto guardando la casetta segreta dell'Eremita. Eccola, la casetta segreta dell'Eremita. Ma che bella! Ma che bello in quest'angolo, in questo momento che mi trovo, attraverso questa pista pedonale e anche ciclabile. Però non c'è nessuno. A me piace osservare la casetta dell'Eremita segreta, Aldo. È stata imbiancata di blu le tapparelle. E mi ricordo tre anni fa, in questo luogo, di questa piccola casetta. Io la chiamerei la casetta dell'amore. È eccezionale. È stata un po' l'isondazione del lago e per poco entrava l'acqua in casa. Comunque è veramente eccezionale questa casetta qua. Io dirigo ora il mio sguardo ancora verso la pista ciclabile e verso questo lago di Comabbio. Devo dire che oggi sono contento che ho fatto questa traiettoria del viandante, del girovago in busse e treni. Perché qua c'è un clima mite e poi mi piace essere qua. Ora vi saluto da questo YouTube. Poi vado a vedere il lago di Monate che è qua vicino. Qui stasera c'è il tramonto rosa perché siamo ai piedi di una bella montagna che si vede là in fondo. Allora sono Ternato, Varano, Borghi. La stazione ferroviaria che si arriva comodamente in questo luogo. Aldo vi saluta dalla casetta segreta del viandante Aldo. Eccezionale, eccezionale, Aldo l'eremita. Non sa più dove andare.